L'industria 4.0 sarà decisiva per il futuro dell'Italia, ancora di più per il sud della campagna grazie a una serie di strumenti messi a disposizione dalla legge di bilancio che incideranno positivamente sulla crescita del nostro territorio. Ne è convinto Vincenzo Boccia, che ha concluso oggi i lavori della cerimonia per il centenario dell'Unione Industriale di Napoli, nella sede del Dipartimento di Ingegneria della Federico II, non a caso scelta da Apple per l'unico progetto di sviluppo app in Europa. L'idea di una campagna che può essere, come dire, apripista di una questione industriale italiana ma innanzitutto del mezzogiorno è un elemento importante, di un Napoli che deve ritornare a essere capitale dell'industria del mezzogiorno e capitale di pensiero e di progetto per il nostro mezzogiorno. Accanto a Boccia è il suo concittadino Vincenzo De Luca, governatore della campagna e a distanza è il sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ribadisce la centralità della città nel programma di investimenti. Noi ci auguriamo che da qui alla fine della primavera ci siano, da qui anzi all'estate per essere più cauti, due firme importanti, come ho detto, Bagnoli e Napoli Est e questo lo voglio sottolineare, è esclusivo merito della capacità di questa città di credere nelle proprie forze, come si diceva prima, forze del lavoro, forze istituzionali, forze economiche e l'abbiamo fatto proprio perché la città è rimasta autonoma. Accanto alla fabbrica 4.0 è necessaria anche una pubblica amministrazione capace di innovare e rispondere al cambiamento dei tempi, ecco perché Boccia condanna senza appello gli assenteisti. Vogliamo solo ricordare, per sintetizzare una frase di Gandhi, chi spreca ruba gli altri.